iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna un incidente si è verificato in entrata a Firenze Sud in entrambe le direzioni in A11 code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa in FIPILI code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze in direzione Livorno rallentamenti tra Firenze Scandici e Scandici e code in uscita alla Strassigna a Firenze per i cantieri della tramvia per il completamento dei getti della sede tramviaria e dello scarico dei binari stanotte via Valfonda sarà chiusa sempre a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze buon viaggio